Ultimo round del precampionato bianconero. Alle 18 alla Rogel Stadium, Dino Manuzzi di Cesena arriva la Robur a Siena, partita che chiude il ciclo di amichevoli e test estivi, che precede la prima gara ufficiale del campionato che vedrà la squadra di Drago impegnata nel posticipo del 29 agosto contro il Perugia. Il mister bianconero può essere soddisfatto del bilancio della preparazione estiva, il Cesena ha vinto tutte le amichevoli e le due gare di coppa con Arecce e Ternana, permettendo alla truppa bianconera di trovare affiatamente fiducia, oltre che mettere benzina nelle gambe in vista del lungo torneo cadetto. Stasera, davanti al pubblico che siederà in tribuna nel settore ospiti, le uniche zone aperte dello stadio, l'avversario sarà quella Robur a Siena, rifondata un paio di anni fa dopo il fallimento della precedente società toscana che milita nella girone A di Lega Pro. Mancheranno all'appello per Ticone, che forse rientrerà per la seconda di campionato contro l'Ascoli, Vitale e Gasperi, che ieri hanno lavorato a parte. Sicuramente il test di oggi pomeriggio servirà a fare prendere confidenza col campo e coi compagni all'ultimo arrivato Cinelli.